Adesso appoggio, teniamo il collo del piede destro, lo portiamo sul palestino, il mento e il mento è sempre verso l'esterno. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Andiamoci a conferenza. Grazie a tutti. Andiamoci a conferenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... Grazie. Andiamoci a tutti. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 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 9, 9, 10, 10. tese, rilancio le braccia a spigolo in netto, uno, e lascio, è stravutabile, due, e lascio, tre, e lascio, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, sette, ok, rifasciamolo anche questo, rifasciamolo in occhio con il pezzo, scendo, finisco l'allontanetto, ok, allora, i piedi sono andando la linea dello spalle, rilancio, braccio aperto a colo, sovremo solo una buona lontare, sovremo, e riappoggio, sovremo, e riappoggio, otto, appoggio, sette, appoggio, sei, appoggio, cinque, quattro, tre, due, uno, veloce, e sovremo, e riappoggio, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e per iniziare, piegando sul coscio, guarda bene, a 90 gradi, questo va, e uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, in avanti, sette, otto, due, o no, due, tre, in avanti, legate, di inizio, e lungo la stessa direzione, sei, sette, tengo in questo esercizio, mentre lo fate, cercate di capire e di capire, e di capire lo scrivico, le gatte si estendono, una, la volta, in avanti, la notte sempre con l'alto, la schiena contro la sua terra, inspiro e respiro, pensate che diventare le più spinte con gli allontieri e non liberare come su una ordina della media shopping. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sollevo, extra ruolo, ok, tiro bene il caldo del piede, piccoli cerchi, uno, sto rifacendo tutta la sequenza, tre, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora e uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, cambio la circonferenza, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ancora otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e trip cross, vai veloce, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, quattro, cinque, sei, sette, veloce, uno, due, fate vedere che c'è ancora in cannella in posizione, precisa di avere coscienza perfetta, lo più corto, per cui fate quello che riuscite, cinque, sei, sette, e listo, cinque, ginocchio sinistro, destro, a polsione, non perdere, processo, a polsione, non perdere, processo, a polsione, non perdere, processo, o di riuscite, cinque, senza, zero. No, 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 no Allora, la posizione con le gambe sulle cosce a 90 gradi, la pallina nella mano sinistra, prima di un spielo. Allora, guardate bene come sono io. Apri il vomito, lascia la sua terza, se no ti da fastidio, non ti da fastidio. Inspiro, e spiro, 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 e spiro. In questo modo, intra rotazione, e vuote basta. Poggiate con la pallina, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Collasso, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e spiro. Prendo la posizione, lungo la linea del tocco. Inter roto, e da qui, andiamo a fare il prossimo modo semplice. Chiudo, 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 otto, sette, cerco di chiudere qui, sei, cinque, quattro, tre, tre, ciao palma, due, uno, ok. Appoggio, e faccio veloce, contenendo. Quindi, se io tengo la gamba tesa, e dentro la rotazione immobile, sto lavorando anche sull'addome. spiro, 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 spiro. Quattro, quattro, tre, due, uno, perciò, uscito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Appoggio la londolina, spingo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Appoggio. Allora. Uno, due, uro. E come frigo pira, mi sirgo da rote Theater, sindualmente聚ati. Rilemanfamp, San Pablo com군. E' un po' sguardo, ne? Gala Ma hai visto nessuno che davanti ha messo? Interlozzo Sì, sono... cosa fai di notte? Ne due. Allora, inizio non funziona, mi raccomando. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e stella. Teniamo su direttamente, anche. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e stella. Il letto, il ruolo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e stella. Piccolo, piccolo. Uno, due, mangio i miei piedi. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Accora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sì, sono ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Autro, ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. e intorno, inspiro, sollevo, amplo e chiudo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sapete che c'è qualcuno di voi che fa così? Entra a ruoto e metta in coordinazione manopiede. A discipare, attraverso una baionetta, a posto sei, guarda. Ma sono davanti, a dire che c'è il cielo, amplo e chiudo. Inspiro, respiro, inspiro e attraverso. E ultimo, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette. Appoggio, spiro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto. E? La testa. Cinque, sei, sette, otto. Scendo. E? Bene. Ma pensa, ma pensi veramente che io faccio le cose a caso? Allora, non so. Tenatevi come siete, sollevo. Mettiamo la sua linea dentro le cabiglie. Mettiamo la sua linea dentro le cabiglie. Rilascio le braccia, testa, collo, spazio, frigo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. Uno, due, tre, respira. Quattro, cinque, sei, sette, veloce. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Chiudo il piede verso l'alto, chiudo il cambio. guarda. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Terminerca ringra, letterto e giocchia, stringi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Un ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, veloce. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vediamo la pallina in mezzo alle cosce. Quindi poco più sotto. Ok? Spingo il piano più leggermente più avanti, spiego le braccia dietro all'allungamento, quando sento la posizione semi-necola, quindi una leggera contrazione sul mio nome, spiego 1, 2, 3, ispira, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spiego le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendo la pallina e si trova, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, appoggio benitamente, guardo la pallina e dici nove ginocchia con le braccia in avanti, inspiro, apro e spiro e chiudo. Inspiro alto, espiro chiudo, inspiro alto, espiro chiudo, inspiro alto, espiro chiudo, veloce. e uno, torno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, schiena a terra, gamba a destra e chiudo, apro, chiudo, apro, otto, sette. sei, cinque, quattro, cinque, quattro, diventate, sono a un metro da te, due, e cambio con la gamba sinistra, prendo, inspiro alto e spiro chiudo. e otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, quattro, tre, due, uno, e stop. appoggio dietro, l'appoggio dietro, l'appoggio dietro, le braccia in piedi, spingo ancora una stella, stendo le gambe, le stendo in attrazione, cerco di tenere la colonna appoggiata, e vado a fare questo, semplicissimo, allora, chiudo, porto le giugno, sinistra, destra, centro, apro, e uno, sinistra, destra, centro, e riapro. torno, sinistra, centro, e riapro, torno, sinistra, allora, c'è una ragione per fare le gambe, sono a terra, a piedi, resti, noi andiamo a stimolare, una parte più scuola, per la stava lontuare, in questo modo, soprattutto che si respira bene, l'ultimo, sinistra, destra, appoggio, e allungo, faccio una pallina a terra, ci appoggio le mani di sopra, ok, in questo modo, e cerco, con le braccia tese, di spingerla a pallina a terra, senza slettere le braccia, provo a spingerla, riuscite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, appoggio i piedi, spingo la toronna a terra, prendo la pallina, sollevo le braccia, porto le braccia, porto le braccia, porto il piccolare, l'arena del tronco, sollevo le dita, quindi un po' con la pallina, cerco di chiudere, la chiudo, la stringo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, veloce, e 1, 2, 3, respira, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sto messamente scelto, prendo le ginocchia, e le porto il petto, prendo le ginocchia, e le porto il petto,